Grazie Presidente. Io volevo dire alla consigliera Mussolini che la ringrazio per questo ordine del giorno perché è proprio quello che noi stiamo facendo con Pago.pia, è proprio quello su cui ci stiamo lavorando perché queste sono proprio le modalità con cui i cittadini sempre attraverso il web, quindi il sito del Comune di Roma, devono poter accedere e quindi anche fare con tempestività dei pagamenti senza fare file. Quindi diciamo che stiamo parlando la stessa lingua, quindi su questo siamo molto favorevoli. L'unica cosa che volevo solo mettere in evidenza era per quanto riguarda le partecipate, se poteva andare bene mettere in prospettiva perché purtroppo sulle partecipate ci si sta lavorando però essendo che sono delle società partecipate Pago.pia riguardo alla pubblica amministrazione lì dobbiamo vedere il processo come può essere implementato. Quindi se riusciamo a fare questa piccola integrazione noi voteremo favorevoli a questo ordine del giorno. Grazie. Grazie.